Avanza ancora la Roma con Cargiat che è bravo ad anticipare, poi Zanetti, De Rossi e ripartiamo con il capitano che se ne va, azione di contropiede, 44 minuti, capitano allarga per Etò, lo va a contrastare a Tendei, entra in aria Etò, guadagna il fondo, Etò, palla dentro, miracolo ancora, Zanetti, cambiasso, cambiasso, è gol, 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 è gol. è gol, è gol, è gol, è il Cuccio è 5, oh sì, è 5, è 5 al minuto 45 il gol del 5-3 lo segna Cuccio quinto gol stagionale per lui l'assist di Samuel Eto' ancora una volta il miracolo poi Zanetti regala una palla a Cambiasso che questa volta non sbaglia e possiamo dire che adesso possono dare anche un po' di recupero ma siamo un po' più tranquilli Inter 5, Roma 3 che spettacolo, Almeazza, che partita 3 minuti di recupero dice D'Amato, devastante Samuel Eto' devastante Samuel Eto'